Benvenuti su MyFootballGersey. Rivediamo la seconda maglia del Alial, la squadra di Neymar. La prima maglia l'avevamo già vista, trovate la recensione qui sopra. Questa è in edizione FAN. La prima maglia del Alial, la squadra di Neymar. La maglia non è niente male, a parte di Neymar e anche di un altro grandissimo calciatore che ho sempre adorato, Milinkovic Savic. Maglia fatta molto bene, ottima qualità, ottimi tempi di spedizione. Questa mi è arrivata in 10 giorni e al costo che vedete qui sopra, voglio dire che tra l'altro include anche le spese di spedizione, un vero affare. Se volete saperne di più trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo che avete visto prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però mi raccomando iscrivetevi al canale, in questo modo potrete vedere tutti i giorni recensioni di maglie bellissime come questa. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti! Grazie a tutti!